Gabriele Chiarini, vicepresidente della Libera Caccia. Andiamo a parlare di quello che sta avanzando in Europa voluto dall'ECA, vale a dire il divieto dell'uso del piombo. Si sta facendo un sondaggio proprio sul sito dell'ECA per sensibilizzare l'opinione pubblica e soprattutto gli ambientalisti a non utilizzare il piombo. Se questa cosa dovesse passare, Gabriele, per la caccia sarebbe drammatico? Beh, sicuramente è un discorso drammatico anche perché molti cacciatori dovrebbero sostituire quello che è il parco armi perché certe armi appunto non possono più sopportare le nuove generazioni sia di polveri che di materiali come l'acciaio e quindi sarebbe un'ulteriore spesa che si devono sopportare i cacciatori e molti appenderebbero, come si dice, il fucile al chiodo. Indubbiamente abbiamo come associazioni sicuramente cercheremo di fare delle pressioni specialmente con l'onorevole Fiocchi che abbiamo sentito anche la settimana scorsa anche perché abbiamo visto che mandare questo messaggio, questa mail all'ECA sia per chi ne sa già utilizzare di computer e insomma è un po' difficoltoso, non è che non si riesca però indubbiamente bisogna avere qualcuno che sappia utilizzare abbastanza bene il computer e quindi magari cercheremo come associazioni di mandare, non so, dico così, delle mail collettive dove appunto le associazioni che rappresentano 70, 100, 200 mila cacciatori si facciano portavoce di questo. Questo infatti è un problema a livello europeo e non solo italiano. A livello italiano abbiamo avuto altri problemi in questi giorni, in queste settimane, in questo periodo che riguarda gli attacchi degli animalisti. Sempre più consistenti, capanni distrutti, gomme tagliate. C'è stata la pressione da parte delle guardie e delle carabinieri forestali nei confronti dei cacciatori ma non si vede la stessa pressione nei confronti di questi atti vandalici. Sicuramente purtroppo qui notiamo che queste persone che vanno a fare questi ride, perché in fin dei conti si trattano proprio di ride e il cacciatore che si trova là da solo o vi dicendo, indubbiamente a vedersi circondati da 8-10 persone, dei forsennati che distruggono o che librano richiami vivi e quant'altro, insomma non è che il cacciatore sia poi tutelato dalla parte giuridica. Indubbiamente sappiamo che ci sono molti braconieri che fanno parte della nostra categoria o appena fuori dalla nostra categoria e quindi automaticamente anche loro vanno perseguiti. Però l'onesto cacciatore che rimane ligio alle regole e via dicendo, esiste, fa una caccia etica, si accontenta e indubbiamente questo non ha nulla da temere. Non equipariamo però il braconiere al cacciatore? Assolutamente, su questo non c'è nessun dubbio che il braconiere rimane il braconiere e il cacciatore avendo pure a volte i braconieri che riescono a sfuggire alle maglie della giustizia hanno una licenza in tasca ma indubbiamente non vengono mai paragonati a quello che è il cacciatore. Un'ultima cosa invece, proprio perché tu sei un capannista di quelli convinti, allevatore amatoriale, il passo. Abbiamo assistito quest'anno a un buon passo del tordo, invece per quanto riguarda Sassello e Cesena? All'inizio avevamo delle buone promesse dal passo, poi purtroppo abbiamo visto il mese di novembre come è andato, acqua tutti i giorni o perlomeno ogni due giorni una perturbazione e quindi questo ha un po' limitato il passo. Sappiamo già da notizie che io trattengo con diversi capannisti che insomma quando c'è una giornata, un po' di sole, qualche cosa si riesce ancora a vedere e qualche tiro si riesce ancora a fare insomma. Grazie Gabriele. Grazie a voi.